Salve, un brindisi. Allora sono arrivata al momento giusto. E a che cosa si brinda? Ignazio, prendi un bicchiere per Vittoria. Brinda anche lei con voi. Sì, sì, subito. Allora è che brindiamo. Immagino che sia una cosa molto importante, no? Certo che è molto importante. Stavamo brindando al nostro prossimo matrimonio. Ci sposeremo molto presto. Vittoria, non è il caso di serbare rancore. Ormai è deciso. Non puoi non brindare anche tu al nostro matrimonio. Non è mia abitudine brindare a qualcosa che non succederà. Come? Non vi sposerete. Stamattina parlando con Adelso mi ha detto che non si sposerà mai con te. Perciò mi dispiace molto, ma non brinderò. Inoltre, mi sembra molto strano venire qua e trovarvi con il bicchiere in mano. Beh, con permesso. Permesso è fatto tardi. Ho molte cose da fare. Ci vediamo, ci vediamo Adelso. Ciao, ci vediamo. Adelso, spiegale tutto, per favore. Dille che... Me l'ha già detto, non si sposerà mai con te. Lascialo parlare. Ci penserà lui a convincerti. Non so a quali discorsi ti riferisci, ma ciò che dice è falso. È completamente falso. Per favore, per favore, non gridare. Adelso. Miriam. Miriam. Ciò che afferma Vittoria è vero. Le ho detto che non ci saremmo sposati. Ma... non è possibile. Pochi minuti fa mi hai detto l'esatto contrario. Sì, sì, ma lascia che ti spieghi. Avevo promesso a Vittoria che... che beh, io non mi sarei sposato con te per le ragioni che conosci. Ma adesso, Vittoria, adesso ho cambiato idea. Sì, mi sposerò con lei. Credo che... dubbiate parlare. Vado via. V mittori, non mi pare.